Convegno dal titolo il collegio sindacale alla luce delle nuove norme di comportamento quali obbligo deontologico presso la sede dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. Tema centrale della discussione è quello della responsabilità e del ruolo di controllo che il collegio sindacale deve avere sulle governance delle società. Ai nostri microfoni il presidente dell'ordine dei commercialisti di Napoli Vincenzo Moretta, il presidente della cassa dottori commercialisti Renzo Guffanti ed il tesoriere Michele Saggese. Abbiamo visto tanti problemi, tante azioni di responsabilità, i tribunali come intraprendono le loro iniziative di risarcimento quindi sicuramente temi veramente molto molto caldi dove l'ordine di Napoli ancora una volta mette in evidenza le proposte che sin dal 1996 ha avanzato sul tema ritenendo che il compenso del collegio sindacale fosse parametrato con un multiplo alla responsabilità. Il mondo globalizzato è un mondo globalizzato a livello di consumi, a livello di informazione anche a livello di quelli che sono tutti i contraccolpi, tutte le capacità organizzative che bisogna mettere in campo per riuscire a gestire ritmi sempre più elevati, argomenti sempre più complicati, responsabilità che di conseguenza aumentano in proporzione. È un incontro fondamentale, è un incontro importante per disegnare ancora gli scenari ai quali sono in qualche modo chiamati i commercialisti nel prossimo futuro.